Manuela Palermi su Facebook. Presidente del Comitato Centrale presso Partito Comunista Italiano, Roma. 20 aprile 2017 alle ore 20 e 28, ricordate la politica dei due forni della DC. Era geniale. Si stava con uno ma anche con l'altro. Ci provò Veltro Nicole ma anche, senza successo. Il M5 Stelle invece riesce persino a ricreare col silenzio la suspense che rendeva unica la politica dei leader democristiani. Oltre la UE e l'Euro dove il silenzio senza senso né di senso dei grillini raggiunge vette pirandelliane ed ha, così è se vi pare, indecifrabile la posizione sul 25 aprile, dove stanno, come, con chi?